Ecco, i 5 Stelle lavorano ai nomi per le presidenze delle Camere, spettano ai partiti vincitori, così dicono dal Movimento. Ma resta l'apertura alle altre forze politiche a partire dal Partito Democratico. Claudia Mazzola. In casa 5 Stelle si lavora ad una rosa di nomi per la presidenza di una delle due Camere, una a noi e una al centro-destra, cioè i due vincitori delle elezioni e la linea di Di Maio. Ma lo scenario potrebbe cambiare qualora il PD raccogliesse il nostro invito, spiegano i 5 Stelle, e si facesse avanti per costruire una maggioranza. A questo punto la geometria delle alleanze sarebbe chiara fin da subito, con una presidenza ai DEM e l'altra al Movimento. Il Movimento 5 Stelle ha come unico obiettivo la nascita di un governo a servizio della gente, un governo che faccia gli interessi degli italiani e non spartizione di poltrone. Per questo chiediamo responsabilità al Parlamento affinché possa nascere questa terza repubblica fondata sul taglio agli sprechi e la lotta alla povertà. Riflettori accesi dunque sulla direzione DEM, ma c'è il piano B, tornare al voto. Preferiamo andare al governo, ma è un'ipotesi sul tavolo. Chi pensa che sia una minaccia sbaglia, ragionano i vertici, sarebbe l'extrema razio una sorta di secondo turno, frutto dell'irresponsabilità degli altri partiti. E questo i nostri elettori, dicono, lo capirebbero. Di Maio intanto continua a lavorare per accreditarsi in Vaticano, l'obiettivo del leader grillino trasformare definitivamente il Movimento in forza moderata, con lo staff economico poi concentrato sulle misure da inserire nel DEF, abbassamento delle tasse per le imprese e misure contro la povertà, mentre Grillo posta un nuovo video, tema il relativismo geografico.